Ciao amici di Planeta di Gitarra, siamo qui NAMM Show 2024 con il nostro amico Giulio Negrini. Ciao Giulio. Ciao Matteo. Allora, lui espone le sue meravigliose chitarre G&G, G&G all'italiana, se vogliamo. Sono dei pezzi meravigliosi e niente Giulio, allora come è andata quest'anno? Vedo dai bigliettini sopra che è andata bene. È andata bene, è andata molto bene, c'è stato un sacco di gente rispetto alle edizioni passate, tanto interesse, anche nuovi contatti, è stato proprio bello, interessante. Abbiamo infatti captato anche dagli altri espositori italiani che quest'anno, ma anche noi l'abbiamo percepito, c'è stato proprio un'esplosione, un movimento incredibile. Sì, infatti siamo molto molto felici che insomma si sia ripreso un po' il tutto, vista le edizioni passate dove tu sei stato, no? Sì, dal 2016 le ho sempre fatte tutte, escluso il 2021 che non l'hanno fatta. Quindi hai visto proprio anche EO e poi l'hai… Sì, sì, il crollo totale degli ultimi due anni. Il crollo totale. E il cambio anche di attenzione verso i piccoli adesso, ma essendoci grandi… Esattamente. Abbiamo molto più un mercato disponibile. Questo è sicuramente un'ottima notizia, insomma, per chi viene manca qualcosina, però è bello perché c'è comunque tanta roba da vedere e soprattutto le cose così belle. Senti, facci vedere un attimino il pezzo forte, raccontaci un po' questa cosa dell'asta perché è veramente bello. Il pezzo forte in realtà è questo. Sì, anche per me. Questa chitarra qua è meravigliosa. L'altro giorno stava passando un ragazzo che era pieno di roba, era chiaramente diretto verso una sua direzione, ha mollato tutto, cioè è tornato indietro, ha mollato tutto per terra, ha fatto una foto, ha poi ripreso tutto e è ripartita. Poi Giger, insomma, è veramente veramente bella, cioè. E… Quindi l'hai venduta, può… Dove va? Questa va in Corea. In Corea, perfetto. Corea, Florida e Arizona. Arizona, sì. Ok. E questa? E questa invece era effettivamente l'unica veramente disponibile per il Nam Show, le altre l'hanno già prenotate in precedenza e ho ricevuto talmente tante richieste per quello che avevo disponibile e ho deciso di metterla all'asta e l'asta finirà oggi alle tre e mezza. Quindi vediamo… Spettacolo. Vediamo dove arriva. Quindi abbiamo anche l'asta per questa chitarra e quindi, insomma, benissimo, siamo davvero contenti per te perché non oso immaginare il lavoro che ci sia dietro. Per realizzare questi capolavori, quindi veramente complimenti. Grazie. E niente, grazie per averci dato spazio. Ma ci mancherebbe? Alla prossima, Giulio. Quando vorrai fare approfondimenti, sempre disponibile. Assolutamente, anzi, ci vedremo magari sicuramente per qualcosa di un po' più approfondito. Magari veniamo a trovarti. Anche. Tu sei in Svizzera adesso, no? In Ticino, quindi molto vicino all'Italia. Siamo vicini. Sì, sì. Magari veniamo a trovarti in laboratorio e facciamo una bella chiacchierata più approfondita. Sarebbe molto bello. Dai. Volontieri. Va bene, alla prossima. Ciao ragazzi.